Per la collezione autunno-inverno 2018-2019, Braccialini punta sui dettagli sofisticati. Fiori in pelle, borchi a forma di stelle, glitter, dettagli in ecopelliccia e stampa a fantasia, impressa a caldo sulla pelle, rappresentano solo una piccola parte di ciò che Braccialini ha da offrire per questa stagione. A parte i colori trend di stagione, come senape e rosso, i temi invernali sono decisamente in primo piano, come si può vedere nel caso delle borse della linea tua All Around, sulle quali sono presenti cani e gatti con vestiti invernali. Le nuove collezioni di punta di Braccialini, per l'inverno, lasciano intuire una stagione dal gusto particolarmente raffinato e modaiolo, dove il gusto del dettaglio raggiunge la sua massima espressione con piccoli tocchi inediti di eleganza. Per ulteriori informazioni e approfondimenti, seguici sul nostro magazine blog.it.it. www.toscaliagruppo.com